Per la nostra ganache servono due ingredienti, una panna fresca e cioccolato fondente di ottima qualità. Molto buono. Cosa facciamo? Dobbiamo creare un'emulsione tra i due grassi. Qui abbiamo panna 35% di grasso e qui abbiamo un cioccolato 60-40%. Per cui porto in ebollizione la nostra panna fresca. E quando bolle, verso dentro il cioccolato e lo facciamo sciogliere. Con una frusta non la montiamo, non dobbiamo incoprire l'aria, ma dobbiamo scioglierli e emulsionare queste due componenti. Una ganache è perfetta quando, dopo l'emulsione, è bella lucida e vellutata.